Nella periferia di una città del nord, in una stanza gelida, due prostitute si portano addosso l'odore dei corpi e dei desideri degli altri. È la storia di un'amicizia difficile, lo spettacolo La durata dell'inverno, scritto e diretto da Giulia Lombezzi, da venerdì 9 a domenica 11 al teatro Sala Icos di San Giovanni a Teduccio. Una storia singolare, quella delle monache di Santa Chiara a Udine, che in pieno Cinquecento trasformano il loro convento in uno spazio di ribellione alla supremazia maschile, nonostante l'intervento della Santa Inquisizione. Lo racconta Marta Cuscuna con La semplicità ingannata, sabato 10 e domenica 11 al teatro Area Nord. Tre giovani rumeni lasciano la loro terra per inseguire senza compromessi i loro sogni e arrivano in un paese dove tutto è meglio, o almeno così credono. Kebab, il pluripremiato testo di Gianina Carbonario, sarà in scena sabato 10 e domenica 11 al nuovo teatro Sanità con la regia di Riccardo Bellandi. Sala Icos, il teatro Area Nord e il nuovo teatro Sanità potranno essere raggiunti col Polibus, la navetta gratuita del comune di Napoli disponibile su prenotazione.